La pausa di Kate Middleton. Un momento per la famiglia. Un momento significativo si sta svolgendo nella vita privata di Kate Middleton, la principessa del Galles. Recentemente, ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni pubblici, suscitando curiosità riguardo alle motivazioni di questa scelta. Perché una figura così attiva nella famiglia reale ha optato per un rallentamento proprio in questo periodo? Nonostante fosse tornata con entusiasmo ai suoi doveri, una nuova dimensione della sua vita privata sta emergendo. Il contesto della pausa. Rientrata nei suoi obblighi ufficiali all'inizio di ottobre, Kate Middleton aveva pianificato una fitta agenda di appuntamenti. Dopo aver completato il ciclo di chemioterapia preventiva, la principessa si era dedicata con grande impegno alle sue responsabilità. Le sue attività si sono improvvisamente diradate, dando vita a interrogativi su questa scelta. Una scelta consapevole. Fonti vicine alla famiglia reale indicano che questa pausa non è dovuta a problematiche di salute, ma è una decisione ponderata. Kate ha scelto di dedicarsi ai suoi figli, George, Charlotte e Louis, che sono in vacanza scolastica fino al 4 novembre, evidenziando quanto questo tempo trascorso insieme sia significativo per lei. Momenti di festa e vita familiare. Questo periodo di inattività non sarà solo dedicato allo stare insieme. Kate Middleton ha in programma di organizzare una festa di Halloween per i suoi bambini, coinvolgendoli nella preparazione di dolcetti fatti in casa, un'attività che sottolinea quanto la principessa nutra un legame speciale con la cucina e la famiglia. Attività a casa e all'aperto. Le giornate di vacanza si svolgeranno presso la residenza di Hammer Hall, nel Norfolk. Qui, lontano dalla frenesia di Londra, la famiglia avrà la possibilità di vivere momenti di tranquillità insieme al principe William, che potrebbe anche ridurre i suoi impegni lavorativi per trascorrere più tempo con i suoi cari. Orla, il loro cane, sarà un compagnone costante durante questa pausa. Impegni futuri e ritorno apparente, nonostante questa pausa, Kate Middleton non dimentica i suoi doveri pubblici. Il prossimo evento ufficiale sarà il Remembrance Day, una commemorazione importante che segnerà il suo ritorno sotto i riflettori, accanto alla regina consorte, Camilla. Si prevede che ci saranno ulteriori apparizioni, seppur brevi, prima di questa data. Il valore della famiglia. La scelta di Kate di prendersi una pausa dagli impegni pubblici, rinforza il suo forte senso di priorità nei confronti della famiglia. Anche in un periodo caratterizzato da cambiamenti e nuove responsabilità, la principessa ha dimostrato che il suo legame con i figli è fondamentale. Questo equilibrio tra vita privata e pubblico, è un aspetto distintivo del suo ruolo. Momentos preziosi e relazioni familiari. Durante queste settimane, i bambini di Kate potranno trascorrere tempo anche con i nonni Middleton, Carol e Michael, consolidando relazioni che sono importanti per la principessa. È ipotizzabile che ci siano momenti di convivialità anche con la sorella Pippa e il fratello James, rendendo questo periodo ancora più prezioso. Conclusioni. Quando Kate Middleton tornerà in pubblico, lo farà con la stessa grazia che la contraddistingue. Il suo ritorno sarà atteso con interesse, ma è evidente che questa pausa è stata dedicata a garantire momenti significativi con i suoi cari, lontano dagli obblighi ufficiali. Questa esperienza si è rivelata fondamentale per affrontare le sfide future con rinnovata energia. Grazie per la cura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.